Mentre preparavo questa puntata, mi è tornata in mente l'immagine del fallimento della banca Lehman Brothers. Era il settembre del 2008. Nel cuore di Wall Street, donne e uomini vestiti da ufficio lasciavano il grattacielo in cui lavoravano, con in mano degli scatoloni di carta, pieni di tutto quello che erano riusciti a portar via. La Lehman Brothers era una delle più importanti banche di investimento al mondo e dichiarava banca rotta per un esposto di oltre 600 miliardi, diventando il simbolo della crisi dei mutui subprime e della tremenda recessione globale che ne è conseguita. Quell'evento ha segnato la mia generazione e quella di chi ha pochi anni meno di me. Ma i più giovani, chi frequenta adesso le università, chi costruirà l'economia del domani? Che cosa conservano di quei momenti? Io sono Silvia Bencivelli e questo è Generazioni in Ascolto, un podcast di Cora Media per l'Università di Roma Torvergata. Generazioni in Ascolto è stato realizzato in occasione di FutureSight, evento dell'Ateneo per promuovere eccellenza in didattica, sviluppo e ricerca. Essendo io nato nel 2001 non ricordo propriamente diciamo quel periodo in quanto ero molto piccolo poi al di là di quello letto sui libri universitari o di racconti di persone più grandi. Ecco lui è Andrea, ha 21 anni e studia economia. Un evento significativo per me pochi anni dopo diventa una nota su un libro di testo. Mi chiedo che cosa è cambiato in questi anni? Le nuove generazioni avranno strumenti per capire più a fondo come gli uomini e le donne della finanza si comportano nel mercato? E quanto c'è di aleatorio, di irrazionale, di umano in fondo in quei comportamenti? Ecco è proprio da Andrea che voglio iniziare questa esplorazione partendo da lui e dai suoi interessi particolari. Il funzionamento del cervello è una tematica che mi affascina molto. All'università invece questa tematica non veniva molto affrontata però durante l'ultimo periodo ho iniziato a leggere argomenti riguardanti il collegamento tra l'economia e il funzionamento proprio del cervello. È una tematica che in futuro ho intenzione di approfondire molto e credo che sia di fondamentale importanza. Un secondo, lo studio della mente non è proprio il primo argomento che ti viene in mente quando pensi all'economia. Andrea però ha ragione. Gli esseri umani economici non sono diversi da quelli che compiono qualsiasi altro tipo di scelta. Ci ha riflettuto anche Lucrezia Fatto Bene, ricercatrice in economia degli intermediari finanziari e docente di finanza aziendale dell'Università di Tor Vergata. Ho pensato alla fine gli economisti vogliono studiare le scelte e le scelte si prendono col cervello perché noi non stiamo studiando il cervello. La professoressa Fatto Bene per lavoro studia il comportamento del nostro cervello mentre facciamo scelte economiche finanziarie, una disciplina chiamata neurofinanza. Per cercare le basi dei comportamenti è partita da lontano, collezionando una fitta rete di esperienze in campi che possono sembrare insoliti per un economista ma non per lei a quanto pare. All'inizio ho cercato di studiare, poi sono stata due anni in clinica dalla professoressa Ceravolo che è una neurologa e anche quello penso che mi ha aiutato tantissimo perché comunque i medici hanno una forma mentis che è completamente diversa dalla nostra quindi due anni immersa in una realtà così diversa penso che mi abbia arricchito tanto e poi vabbè in realtà negli ultimi anni sono stata semplicemente fortunata ad incontrare dei colleghi che condividevano insomma queste stesse riflessioni mie e soprattutto appunto anche qui a Tor Vergata. Ed eccoci qua a ragionare su quali siano i meccanismi che guidano le nostre scelte anche in finanza e in economia, a chiederci se il mondo dentro di noi, le nostre emozioni, possano condizionare anche le nostre scelte economiche. Se lo chiede anche Andrea. All'università abbiamo sempre studiato modelli economici che erano basati sull'ipotesi di razionalità dei soggetti. quello che mi chiedo è se l'introduzione della neurofinanza ha permesso di modificare questi modelli e quindi di migliorarli. La risposta di fatto bene. Noi in economia e finanza abbiamo sempre ipotizzato un decisore perfettamente razionale, impermeabile alle emozioni, con capacità di calcolo illimitate. Ma in realtà i soggetti hanno una serie di limiti, una limitata conoscenza del contesto, capacità attentive, capacità amnestiche. Sempre riusciamo a tenere a mente un tot di numeri e poi diventa complicato. Quindi immagino ad esempio quando andiamo a fare la spesa e siamo particolarmente affamati, tendiamo a comprare cibi particolarmente grassi e pensiamo poi che i giorni successivi mangeremo con lo stesso gusto che immaginiamo durante la spesa tutto quel cibo. Poi in realtà invece a casa un po' ci pentiamo e avremmo voluto comprare qualcosa un po' più salutare. Quindi non abbiamo sempre una perfetta conoscenza di quelle che sono poi anche le nostre preferenze future. Perché i nostri stati emotivi del momento condizionano anche le nostre aspettative, le nostre preferenze future. Le neuroscienze stanno chiarendo che molti processi che guidano l'azione umana sono automatici e inconsci e avvengono al di sotto della nostra soglia di consapevolezza, quindi senza che ne abbiamo contezza. Processi che hanno origine nel nostro inconscio. È un tema molto caldo tra chi studia le neuroscienze. Qualcuno si spinge a sostenere che perfino il libero arbitrio sia un'illusione. Quanto ai processi inconsapevoli, Andrea va oltre e si domanda. Mi chiedo quali sono le emozioni che vengono generate dai soggetti quando prendono determinate decisioni economico-finanziarie. Lucrezia ha fatto bene per rispondere, parte da lontano, dalla nostra instancabile e continua ricerca del piacere. Il nostro cervello ha comunque un'unica valuta, un'unica currency, nel senso che quelle strutture neurali che sono coinvolte nel sistema della ricompensa, quindi nel processare principalmente il piacere, sono le stesse, sia che parliamo di un piacere che è legato ad esempio a dei cibi che sono buoni, appetitosi, quindi generalmente cibi grassi, sia che parliamo di sostanze stupefacenti e quindi di dipendenza, sia che parliamo di sesso, che parliamo di rendimenti che derivano da una negoziazione sul mercato finanziario. Il sistema della ricompensa è lo stesso. Cioè, motore segreto della grande finanza è il piacere donistico. Ce lo dicono queste ricerche, guardando i broker, quelli che spostano milioni di dollari in un battito di ciglia, ma anche guardando chi senza esperienza si perde nel mare delle transazioni finanziarie, magari lasciando dietro di sé tutti i propri risparmi. Ecco, osservandoli vediamo la ricerca del brivido, il piacere del rischio. E a volte questo non è troppo diverso da quello che succede, ad esempio, nella dipendenza da gioco d'azzardo. Esiste un piacere legato al gesto stesso della vendita, come nell'esperimento che ci descrive Lucrezia Fatto Bene. Gli studiosi hanno creato un mercato sperimentale, quindi il laboratorio, e si è osservato che l'attivazione di specifiche strutture neurali che sono coinvolte nel piacere donico, quindi nell'esperire il piacere, nel momento in cui il soggetto va a smobilizzare sul mercato finanziario il titolo, è maggiore rispetto a quando il soggetto percepisce l'utilità dal vedere che quel titolo sta effettivamente riportando un guadagno. Cioè c'è un piacere in più associato all'atto stesso di vendere il titolo che sta riportando un guadagno. Quindi vendere un'azione in borsa è più soddisfacente di continuare a tenerla in portafoglio e magari vederla fruttare per guadagnarci qualcosa in più. A questo punto però facciamo una precisazione, piccola ma utile a non creare fraintendimenti. Dire che gli stati emotivi giocano un ruolo importante nelle scelte economiche non vuol dire che sono gli unici fattori in campo. Questo deve essere chiaro. Però, se guardiamo ai miliardi di transazioni più o meno grandi che avvengono nelle borse mondiali, ai titoli che vengono continuamente scambiati e alle bolle che si creano e poi esplodono e alla paura dei mercati, beh allora la somma delle emozioni di tanti gioca un ruolo più che significativo. Pensiamo alla frenesia di vendite e di acquisto che si crea in certe particolari situazioni. Ma non è finita. Alcune emozioni giocano un ruolo cruciale. Una delle emozioni che si studia molto in neuroeconomia e neurofinanza è il regre, il rimpianto. È un'emozione molto complessa perché si basa sul cosiddetto ragionamento controfattuale. Cioè io penso come sarebbe stato e in particolare quale sarebbe stata la ricompensa se io avessi fatto diversamente. Quindi la neuroeconomia chiarisce che molto spesso invece i soggetti prendono le proprie decisioni cercando di minimizzare il rimpianto. Quindi non massimizzare l'utilità ma minimizzare un'emozione negativa come quella del rimpianto. Quindi le persone non vogliono prendere atto che se avessero fatto diversamente sarebbe andata meglio. E adesso espandendo queste riflessioni dal processo decisionale del singolo a quello sociale emerge che le persone poi si confrontano continuamente con gli altri perché io posso confrontare anche la mia scelta con quella del vicino e quindi l'erba del vicino è sempre più verde. Quindi ad esempio un soggetto che percepisce una qualsiasi forma di ricompensa monetaria, quindi un guadagno, può provare meno piacere se questo guadagno è privato e quindi gli altri non ne sono a conoscenza. Quello che mi colpisce di più è che queste considerazioni mettono in discussione alcuni dei capisaldi del pensiero, e non solo del pensiero economico, del mondo in cui siamo cresciuti. Cioè intuitivamente noi siamo portati a pensare che le emozioni siano il risultato delle nostre azioni o di quelle di chi ci circonda. La gratificazione ad esempio segue le nostre azioni perché è la conseguenza di un successo. Ma se invertiamo i fattori? La neuroeconomia sta proponendo dei modelli per cui le emozioni non sono solo il risultato di una scelta, ma anticipano la scelta, la guidano. Quelle anticipate che sono proprio delle sensazioni viscerali che proviamo ad esempio di fronte al rischio e poi ci sono quelle anticipatorie che sono un po' più cognitivi per cui come dicevamo prima per il rimpianto io anticipo l'emozione che proverò dopo e quindi compio una decisione immaginando anche l'emozione che succederà, che seguirà la scelta. Chi si laurerà in economia in questi prossimi anni dunque avrà a che fare non solo con il cosiddetto homo economicus, il tiepido calcolatore privo di emozioni degli studi classici, ma dovrà considerare anche tutti questi aspetti emotivi, irrazionali, inconsci. Cioè che cosa dovrà studiare Andrea? Fino ad adesso all'università abbiamo sempre utilizzato determinati modelli, determinati strumenti per studiare varie tematiche relative all'economia, ma l'introduzione della neurofinanza come può essere implementata, attraverso quali strumenti e quindi in che modo gli studi vengono condotti. Gli economisti in laboratorio prendono in prestito dei neuroscienziati diverse tecniche, diverse tecniche d'indagine, una di queste è la risonanza magnetica funzionale. La risonanza magnetica funzionale ci permette di studiare il metabolismo delle diverse aree. Maggiore il metabolismo, maggiore è l'attività di quella parte di cervello. È così che possiamo studiare il cervello in azione. E questa variazione viene registrata dalla risonanza che quindi ci riesce a far capire quale specifica struttura neurale area del cervello è attiva, anche se bisogna prendere la parola attiva tra virgolette perché in realtà il cervello non si spegne mai, nel senso che le strutture neurali sono sempre attive, quindi in realtà si parla di un delta, di una differenza rispetto a uno stato di riposo. Ma quali sono le aree che intervengono quando prendiamo decisioni economiche? Alcune strutture neurali molto importanti in neuroeconomia sono ad esempio l'insula che è particolarmente attiva quando proviamo disgusto, quando proviamo dolore, dolore fisico ma anche dolore sociale. L'amigdala è un po' il campanello d'allarme del nostro cervello, quindi si attiva quando c'è uno stimolo che dal punto di vista emotivo è saliente, cioè viene considerato molto importante dal nostro cervello e quindi sicuramente è una struttura chiave quando siamo in un contesto di emozioni paurose. Poi c'è il nucleo succumbens che è una struttura neurale collegata al circuito della ricompensa, quindi è coinvolta nel sistema dopaminergico ed è quindi chiaramente una struttura che è molto cara ai neuroeconomisti quando parliamo di ricompense, di provare piacere, di anticipare guadagni e così via. Ok, proviamo un attimo a riepilogare. Abbiamo molti indizi che le emozioni anticipino, in alcuni casi, le nostre decisioni. Abbiamo osservato che i meccanismi del piacere sono comuni a sesso, gioco d'azzardo e mercati finanziari e abbiamo visto che alcuni sentimenti sfuggono alle logiche razionali che dovrebbero guidare i mercati. Magari non in tutti i casi sono pistole fumanti, come quelle dei gialli, che permettono di incastrare l'assassino, però sono sicuramente dati interessanti. Quello che mi chiedo adesso però è altro. Queste scoperte sono relativamente recenti. Possibile che fino ad oggi nessuno ci avesse mai pensato? Cioè nessuno avesse mai sospettato che gli esseri umani non sono proprio dei decisori razionali. E nei secoli, come sappiamo tutti, ci sono state diverse crisi economico-finanziarie e molto spesso gli economisti non sono riusciti ad anticiparli con dei tempi ragionevoli sufficienti. Una delle prime bolle che viene descritta è quella dei bulbi di tulipano, quando un bulbo di un tulipano arrivò a costare quasi quanto lo stipendo di un fornaio all'epoca. Bolla dei bulbi di tulipano. Per capire meglio di che cosa si tratti dobbiamo spostarci nei Paesi Bassi del tardo 1500, quando tra le classi medio-alte si scatenò la moda di questi fiori, che sono di origine orientale. La frenesia per i tulipani era tale che i contadini vendevano i futuri fiori quando ancora erano solo radichette nel terreno, con un meccanismo simile a quanto succede oggi con i famigerati prodotti derivati, i cosiddetti futures. Cioè si vendeva un diritto sul fiore futuro. Il saldo sarebbe stato pagato una volta che il tulipano sarebbe diventato adulto. La richiesta di tulipani era tale che il prezzo dei bulbi raggiunse cifre astronomiche. E prese da questa smania le persone vendevano le proprie case pur di comprare un bulbo di tulipano. Il 3 febbraio del 1636, a un'asta nella cittadina olandese di Alkmaar, il prezzo di un singolo bulbo arrivò a essere pari al reddito annuale di un muratore. Ma la settimana successiva, un'asta a Harlem andò deserta e si scatenò il panico. Da lì in avanti le aste iniziarono ad andare a vuoto e tutti provavano a disfarsi dei propri bulbi di tulipano prima che il prezzo diventasse troppo basso. Cosa che inevitabilmente avvenne nel giro di poche settimane, mentre chi aveva ancora contratti attivi si trovò a pagare ai contadini prezzi fuori mercato. Molto fuori mercato. Questo è considerato un primo esempio di quella cosiddetta euforia irrazionale, quindi se vogliamo anche un po' un fallimento delle teorie classiche, o meglio un'incapacità da parte degli studiosi di prevedere esattamente il comportamento dei soggetti. Ok, questo per quanto riguarda la borsa, le piazze della finanza. Però esiste anche un quotidiano, in cui andiamo a fare la spesa al supermercato, dal fruttivendolo, paghiamo le rate della macchina o apriamo e poi paghiamo un mutuo. Su questo Andrea si chiede. A questo punto mi domando se le scoperte della neuroeconomia potranno avere un impatto nella vita quotidiana, magari aumentando anche le tutele dei consumatori. Allora, con il laboratorio di neurofinanza di Tor Vergata si è dedicata attenzione a studiare l'attenzione, perdonate il gioco di parole, che il soggetto dedica ai documenti informativi, che sono quei documenti previsti dalla trasparenza per veicolare, per dare ai consumatori quelle informazioni principali che sono utili per prendere delle decisioni informate. Il modo con cui questi documenti vengono preparati, vengono allestiti è molto molto importante e si può capire come specifici formati sono in grado di condizionare l'attenzione dei soggetti e questo è possibile tracciando lo sguardo dei soggetti con tecniche di tracciamento dello sguardo, come ad esempio l'eye tracking. Si è osservato che se il documento informativo inizia con una specifica fonte informativa, come ad esempio i costi, questo porta una maggiore attenzione non solo verso quella specifica sezione del documento che sono appunto i costi, ma anche verso altre aree del documento, altre porzioni dello stimolo visivo. Quindi le autorità di regolamentazione che sono sicuramente interessate a aumentare il livello di protezione dei consumatori possono beneficiare da questo tipo di risultati sperimentali. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo visto che c'è qualcuno che punta a costruire una nuova economia che tenga in maggiore considerazione la nostra emotività e la nostra irrazionalità. Il futuro di Andrea, che a breve sarà economista, sarà quindi permeato di neuroscienze? E che cosa sarà della neurofinanza? Lasciamo ancora a Lucrezia Fatto Bene il compito di azzardare una previsione. Secondo me questa disciplina è importantissima per il futuro, io lo pensavo già il mio primo anno durante il mio percorso di laurea magistrale, ho pensato che questo sarà sicuramente uno di quegli argomenti che sarà importante per i prossimi 50 anni. Generazioni in Ascolto è un podcast di Cora Media per Università di Roma Torvergata. È stato scritto insieme a Simone Clemente con la supervisione di Antonella Serrecchia. Le registrazioni in studio sono di Manuele Moscatelli. Il supporto alle registrazioni in presa diretta è di Andrea Girelli. L'editing e il sound design sono di Cristiano Lomele per Iceberg Studios. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi SRL. La cura editoriale è di Sara Poma, la producer è Anna Menna. Si ringrazia Andrea Di Guida e la professoressa Lucrezia Fatto Bene.